850.000 euro, questo è il danno chiesto dai difensori degli imputati del processo Fort Knox per la lentezza della giustizia. A chiederli sono stati gli avvocati Irene Lepre e Donato Laino per conto dei loro assistiti, che hanno chiesto di procedere col rito ordinario senza passare, come molti altri, dal patteggiamento. I legali hanno infatti depositato un ricorso alla Corte d'Appello di Firenze, chiedendo l'equa riparazione del danno per la violazione del termine ragionevole del processo, secondo la legge Pinto. La cifra richiesta al Ministero della Giustizia, tra danni materiali e morali subite dall'azienda Eorafe di Napoli, arriva appunto ad 850.000 euro. Sono trascorsi sei anni e otto mesi dal blitz delle fiamme gialle e aretine, che stroncò uno dei più clamorosi traffici di oro in nero verso la Svizzera che passava per Arezzo. Un tempo giudicato dagli avvocati una vessazione nei confronti dei loro assistiti. Nel corso del blitz della finanza vennero infatti sequestrati 12 milioni di euro e ancora otto non sono stati restituiti. Questo avrebbe comportato gravi danni economici alle loro aziende, costringendoli in pratica a chiudere.